Perchè avresti fatto scappare gli altri detenuti? Un diversivo? No, quell'imbecille non sa leggere i numeri sulle porte delle celle. Le ha aperte tutte finché non ha trovato la mia. Piuttosto dovresti chiedermi perché proprio io. Aveva voglia di farti uscire per giocare con lui? Ok, saputello. Doc Ock ci aveva ingaggiato per sottrarre del materiale governativo segreto. La nave dà carico! Sei stato imbrogliato, testa di ragnatela! Mary Jane, devo dirti qualcosa. So che non sono sempre stato presente, ma voglio che tu sappia che io sono davvero... Peter! Parker, porta un messaggio da paragonia. Se vuoi rivedere ancora viva questa ragazza, dia al tuo fotogenico amico arachnide che mi dovrà incontrare da solo alle tre di questo pomeriggio. Come è riuscito Octavius a rapire Mary Jane? E perché sto perdendo tempo qui? Fai attenzione, Spidey. Mi scoppori, uso il trasmettitore, forse posso disattivare i robot. Difendimi da loro! I pendolari! I pendolari! I pendolari! Oxeo! I pendolari! E' natura! Fai attenzioni. Chiudi, posso dar la macchina che mi sono attraverta! Ho, quello che devo fare è abbastanza per non esserci, a fare una macchina che non è passata! È un'esercizionale che non è passata! E' un'esercizio che ripiare! Close! È un'esercizio che ti ne possono fare? Non è vera, non è vera. È un'esercizio che si deve vengare grazie spider-man ma la mia amica ancora lì ha bisogno di rinforzi fermi spider-man grazie pensavo di essere spacciato lasciami in pace sono ancora tutto intero sei un vero eroe spider-man farò qualsiasi cosa ma non farmi del male non hai ancora vinto ok doc sono qui e lei dov'è oh è al sicuro per ora perché non vieni a prenderla